Marzo si è chiuso con molta soddisfazione per la città di Napoli, che ha accolto il mese di aprile a braccia aperte con un weekend di Pasqua strabordante di successi sul fronte del turismo. Il capolugo campano, infatti, è stato tra le mete preferite dei turisti italiani e internazionali, che hanno approfittato del lungo fine settimana festivo per godere delle bellezze della natura e della cultura partenopee. Dal Man a Capodimonte, da Pompei, i siti archeologici, alle strade e le piazze della città, Napoli è stata letteralmente invasa dai turisti. Qualcuno, non curante dell'incertezza meteo, ha anche provato ad approfittare dei giorni di festa per un primo bagno primaverile. Il rovescio della medaglia, però, ha visto la città non esattamente in forma smagliante. Metropolitana a singhiozzo, trasporto pubblico non sempre ottimale e traffico occasionalmente in tilt. Non la migliore delle presentazioni per la città, che in ogni caso è riuscita a rubare il cuore ai tanti giunti a visitarla per questo ponte pasquale. Ecco, le voci di alcuni turisti che hanno approfittato delle feste per godersi Napoli e le sue meraviglie. È una meta che, a parte che il periodo è bellissimo, perché qui è quasi estate e da noi invece è ancora inverno. Ci sono tante meraviglie da visitare. Volevamo fare un giorno dopo riporta per assaggiare anche pizza e fogliatelle e altro. Dal Napoli dei record al Napoli dei flop è stato davvero un attimo. Abbiamo posto in classifica, stagione da nove sconfitte, ma soprattutto niente Coppe Europee all'orizzonte per il Napoli.